In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Maria Sede Sapientiae ora Pronobis. Continua la vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno. Settimo episodio La lotta contro Satana Pietro Ti prego dimmi ora dove se ne andò il santo e se in quel luogo fece altri miracoli. Gregorio Andando altrove il santo mutò luogo ma non avversario. In seguito dovette infatti sostenere battaglie ancor più dure perché si trovò ad affrontare in campo aperto lo stesso maestro del male. La rocca chiamata Cassino è situata sul fianco di un monte elevato. Essa accoglie il paese come in un'ampia insenatura. Poi salendo ancora per circa tre miglia sembra protendere la sua cima fino al cielo. Lassù c'era un antichissimo tempio in cui, secondo l'invetterata consuetudine dei pagani, la massa ignorante dei contadini rendeva culto ad Apollo. Tutti intorno crescevano boschi consacrati al culto dei demoni e ancora in quel luogo una stolta folla di infedeli vi si accalcava per offrire numerosi empi sacrifici. Appena vi giunse, l'uomo di Dio spezzò l'idolo, rovesciò l'altare, tagliò i boschi. Proprio dove si ergeva il tempio di Apollo costruì un oratorio dedicato a San Martino. E dove era l'Ara di Apollo, una cappella in onore di San Giovanni Battista. Inoltre, con un'assidua predicazione, attirava alla fede tutta la popolazione che abitava nei dintorni. L'antico avversario, però, non potendo sopportare in silenzio tutti questi affronti, si presentò alla vista del padre, non più nascosto sotto altri aspetti o in sogno, ma scoprendosi apertamente. Con alte grida si lamentava di subir violenza, al punto che i fratelli ne udivano la voce, pur senza vederne la figura. Come il venerabile padre raccontava poi ai discepoli, l'antico avversario gli si mostrava gli occhi corporei in aspetto terribile, infuocato, e sembrava volesse scagliarsi accanitamente contro di lui, con bocca e occhi fiammeggianti. Tutti ormai udivano ciò che gli diceva. Prima lo chiamava per nome, poi, siccome l'uomo di Dio non gli rispondeva, passava alle ingiurie, e gli rovesciava addosso un fiume di insolenze. Cominciava chiamando ad alta voce, Benedetto, Benedetto. Ma vedendo che l'altro non gli badava affatto, subito aggiungeva, Maledetto, non Benedetto. Perché ce l'hai con me? Perché mi perseguiti? Ma è tempo ormai di vedere nuove lotte dell'antico avversario contro il servo di Dio. Era sempre il maligno volerlo attaccare, ma finiva a suo malgrado per procurargli nuove occasioni di vittoria. Un giorno, mentre i fratelli costruivano i locali del nuovo monastero, videro là, in mezzo, una grossa pietra, e decisero di prenderla per utilizzarla nella costruzione. Si misero in due o tre per smuoverla, ma non vi riuscirono. Se ne aggiunsero altri, essa rimase immobile al suo posto, come se fosse radicata al suolo. Per tutti allora fu chiaro che in quel macigno doveva essersi seduto l'antico avversario in persona, se tante braccia vigorose non bastavano a smuoverlo. Vista la difficoltà, mandarono chiamare l'uomo di Dio, perché venisse a scacciare il nemico con la sua preghiera. Così avrebbero potuto spostare la pietra. Egli venne subito, e pregando diede la benedizione. Immediatamente il masso fu sollevato con tale facilità da sembrare che mai fosse stato pesante. Alla presenza dell'uomo di Dio allora si decise di scavare in quel luogo. Arrivati con lo scavo a una notevole profondità, i fratelli vi trovarono un idolo di bronzo. Essi per il momento lo gettarono a caso nella cucina. Ed ecco all'improvviso divampare un incendio, che stando quanto tutti i monaci vedevano con i loro occhi, avvolgeva l'intero locale della cucina, distruggendolo. Si misero in grande agitazione e cominciarono a gettare acqua nel tentativo di spegnere le fiamme. L'uomo di Dio allora, colpito da quel rumoroso trambusto, andò sul posto e subito constatò che quel fuoco era solo negli occhi dei fratelli. Egli infatti non lo vedeva. Perciò chi nato il capo si raccolse in preghiera. Riportò così alla vista normale i fratelli che aveva trovato vittime dell'inganno di un fuoco del tutto immaginario. Essi poterono constatare con i loro propri occhi che il locale della cucina era intatto e non videro più le fiamme illusorie, finzione operata dall'antico avversario. Un'altra volta, mentre i fratelli stavano lavorando per rialzare un poco una parete, l'uomo di Dio ritirato nella sua cella e tutto intento alla preghiera si vide a un tratto davanti agli occhi l'antico avversario. Con insolenza veniva ad avvisarlo che stava andando a trovare i monaci al lavoro. L'uomo di Dio mandò subito uno ai fratelli con questo messaggio fratelli state bene attenti perché in questo momento il maligno viene presso di voi. L'inviato non aveva ancora finito di parlare e già il maligno faceva crollare proprio la parete che stavano innalzando schiacciando sotto le macerie un giovane monaco figlio di un funzionario della curia imperiale. Tutti furono presi da grande tristezza e dolore non per il crollo del muro ma per la disgrazia accaduta al fratello e si fecero premura di far giungere la dolorosa notizia al venerabile padre Benedetto. Allora il padre ordinò che gli portassero il ragazzo sfracellato. Il trasporto fu possibile solo mediante una coperta perché le pietre del muro crollato oltre ad averli schiacciate le membra gli avevano anche frantumato le ossa. L'uomo di Dio fece subito deporre il corpo nella sua cella sullo psianzium cioè la stuoia su cui era solito pregare e congedati fratelli chiuse la porta e si immerse in preghiera ancor più intensamente del consueto. Ecco il miracolo in quella medesima ora rimandò il ragazzo sano e in forza come prima a continuare il suo lavoro con i fratelli in modo che la parete fosse portata a compimento anche dal monaco che l'antico avversario aveva fatto morire per farsi beffe di Benedetto. Sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen